Ai nostri microfoni Martino Gianni che ha scritto pagine fondamentali, importanti, oserei dire leggendarie della giostra del Saracino. Nei giorni scorsi è stato particolarmente critico con la decisione di correre giostra. Se pensi che il pubblico sia soddisfatto di vedere due Gianni insieme, io questo non lo so. No, non la condivido, è una scelta che non la condivido perché per me Arezzo si merita molto di più, molta più visibilità e per poter essere più visibile bisogna che le cose vengano fatte, secondo me, con una certa razionalità. Se devo fare una giostra così, zoppa, dove effettivamente non posso far valorizzare né le bellezze della città né tanto meno le bellezze che sono moltissime della giostra del Saracino, io avrei preferito aspettare un anno però farla con tutte le sue regole e non certo con una manifestazione zoppa. Vi è andato a fare il paragone con Siena e la decisione da parte di tutti di non fare il palio. Quando si parla di palio forse è un avvenimento, non ce ne vogliano gli amici di Arezzo, ma molto più importante della giostra. No, ma poi c'è anche da considerare che nel contesto del palio è vero che sono 17 contradi, cioè loro parlano che il palio di Siena è la loro festa e non c'è nessun senese che permette che la festa venga o penalizzata o tantomeno non fatta con tutti i criteri, quindi cene, cenotti, battesimi, compagna bella. Però noi sì vogliamo fare questo paragone, però quando è il momento poi di mettere sul tavolo delle idee o delle soluzioni per far sì che questa manifestazione deve crescere, perché può crescere, perché il pacchetto che offre la giostra non lo offre nessuno, perché il palio di Siena è bella la corsa, è emozionante. C'è un contesto dove le musiche sono sempre a soliti ritmi, sono tantissimi figuranti, tantissime contradi che all'ultimo ti viene a noia anche a vederle, sicché non vedi l'ora, magari giri il canale da un'altra parte, però aspetti alle 7 quando c'è il famoso colpo di mortaio dove escono i cavalli e lì inizia il palio. Nella giostra del Salacino invece è una cosa diversa, perché c'è un contesto storico, delle musiche, degli sbandieratori, il gruppo musicico, che non ce l'ha nessuno, quindi già dalle colonne, dai colori, dall'ingresso in piazza che è molto bello, però l'Arezzo ha una piazza più chiusa, quindi se non viene corso il palio di Siena in un contesto dove magari non fa entrare il pubblico in piedi, però la piazza è talmente grande che può essere tipo un campo da calcio, lo potevi correre, eppure hanno deciso perché non era la festa della città. Noi a Arezzo se la festa ci piace questa, hanno deciso di farla, quindi venga, ma se ti chiedi la mia opinione io non l'avrei fatta. Martino Gianni vedrà il Salacino domenica? Ma ieri uscì che se qualcuno si autoinvitava, purtroppo l'avrei visto, perché si autoinvitano e dicono dai almeno ce lo spieghi, ce ne parli, e così è successo, perlomeno se non l'avevo detto avevo l'occasione per poter dire no guarda non sono ad Arezzo e purtroppo non te la posso far vedere, invece ieri mi hanno detto, ho letto nell'intervista che te hai detto che se qualcuno si autoinvita verrai la giocata, allora io te lo dico sin da ora, io sono già autoinvitata, quindi alle tre e mezzo sono da te, va bene, e se verrà.